sant'atanasio e sant'ilario con la vergine maria contro l'eresia ariana di padre luca maria genovese l'arianesimo fu la più grande resia dell'antichità quella che procurò più danni alla chiesa e più fuoriuscite di individui anche importanti come vescovi e scrittori religiosi dalla compagine ecclesiali lo dimostra il fatto che ci furono molti santi vescovi e maestri della fede che sentirono il bisogno di dedicare intere opere polemiche contro questa devastante dottrina che emetteva in dubbio l'essenza della fede cristiana la divinità di nostro signore gesù cristo contro questa eresia fu convocato anche il primo concilio ecumenico della chiesa cattolica in età post apostolica il concilio di nicea del 325 dopo cristo esso affermò la realtà della divinità di cristo a partire dalle sacre scritture per mezzo della definizione della consostanzialità del figlio con il padre artefice di questo concilio voluto fortemente dall'imperatore costantino fu il patriarca di alessandria alessandro coadiuvato dal suo segretario il sacerdote atanasio che poi diverrà vescovo al suo posto alessandro e atanasio porteranno avanti la legna cattolica contro la tendenza ariana a sminuire la divinità di cristo nel credo niceno ancora oggi in qualche occasione che si recita nelle chiese si dice testualmente dio da dio l'arianesimo nonostante il concilio di nicea quale partecipò anche ario ebbe uno sviluppo enorme in tutto il mondo cristiano anche vescovi ed imperatori romani come costanze valente discendenti di costantino aderirono all'arianesimo e perseguitarono i vescovi ed i fedeli che erano rimasti fedeli a nicea come mai tutto questo sviluppo e questa divisione così radicale della chiesa su una questione dottrinale così importante il problema stava nella debolezza della fede di molti nuovi adepti come persone colte filosofi magistrati e politici che venivano dal paganesimo o da religioni esoteriche poi dall'esigenza pubblica come era per lo stato romano antico ormai divenuto cristiano di tenere in pugno la religione di avere un grande consenso intorno a sé e di farne un centro di unità politica e statale gli imperatori capirono che un pensiero cristiano debole era meglio di uno forte perché poteva inglobare più incerti ed anche più pagani che potessero in qualche modo accettare razionalmente la nuova religione senza tanti scossoni per la relazione con la vecchia tradizione religiosa romana l'arianesimo infatti non disturbava più di tanto i ben pensanti comuni cristo era solo una semplice creatura e come tale poteva essere solo l'interprete ma non il fondamento della nuova religione che rimandava a un dio misterioso e lontano proprio come quello dei pagani e degli esoterici l'arianesimo si inchinava di più al mondo senza quella radicalità cristiana che traspare dai testi evangelici e dalla predicazione degli apostoli era un cristianesimo come si direbbe oggi aperto al mondo pronto anche a rinnegare le sue verità rivelate pur di venire in dialogo con la razionalità classica e del pensiero mondano sappiamo quanta difficoltà trovò il cristianesimo farsi accogliere dai sapienti e filosofi della grecia apice della cultura antica quando l'apostolo paolo si recò ad atene per tenere il suo famoso discorso all'ereopago in quell'occasione cristianesimo conobbe lo scontro con la mentalità razionalistica pagana di allora per la quale era assolutamente inaccettabile che dio si identificasse con un uomo e che si potesse provare ciò con la risurrezione a questa corrente colta e pagana poi cristianizzata apparteneva in fondo anche il sacerdote ario di grande effetto comunicativo tanto da entusiasmare grandi platee con la forza della sua dialettica e di portare a sé uomini colti ed interi monasteri purtroppo l'arianesimo si sviluppò per l'adesione di grandi retori dalla causa cristiana che pensavano di difenderla e tutelarla mettendoci del proprio mentre in realtà la distruggevano il più grande storico della chiesa antica il vescovo eusebio di cesarea pur illustrando la storia della chiesa con mirabili biografie dei primi martiri e difendendo lo sviluppo della prima chiesa nella storia ecclesiastica cadde nella situazione di comodo dell'arianesimo e visse sempre una fede ariana forse per non scontentare l'imperatore che aveva sempre servito ario morì in circostanze tragiche ma il suo movimento durò per più di un secolo tanto che molti anni dopo la sua morte san girolamo poteva dire la chiesa si destò e si trovò ariana solo due grandi vescovi in questo sfacero si opposero alla devianza dottrinale di questo secolo sant'atanasio di alessandria perseguitato per questo fino alla fine e sant'ilario di poitier anche lui perseguitato e diffamato due grandi anime grandi intelligenze ma soprattutto grandi devoti della beata vergine la quale li guidò con pochi fedeli nella dura battaglia contro l'eresia ariana le argomentazioni di sant'atanasio e di sant'ilario furono ispirate alla centralità della divinità di cristo mancando la quale veniva meno anche l'altra verità fondamentale del cristianesimo la santissima trinità per questo ilario sentì di scrivere il primo grande trattato sulla trinità in ambito cattolico imperniato sulla divinità di cristo ma è la vergine maria la vera garante della fede nell'incarnazione in virtù del soprannaturale annuncio dell'angelo causa della concezione e del parto virginale la madre di dio con la sua presenza umana così elevata dalla divinità è la vera vincitrice dell'eresia ariana non sarebbe nato infatti il figlio di dio senza di lei e noi senza di lei non saremmo nemmeno cristiani sant'atanasio descrive la vita della vergine come anticipo della vita monastica simbolo della elevazione dell'uomo in grazia nella vita virginale la dottrina di ario che esminuiva cristo inevitabilmente diminuiva anche l'importanza di maria santissima che da madre del verbo divino incarnato diventava madre di un uomo qualsiasi una donna come tutte le altre sant'atanasio nel difendere la verità di fede nella divinità di cristo fu portato a difendere l'altissima dignità di maria nelle sue opere risuonano toccanti accenti sulla vera maternità di maria nei confronti del figlio di dio e sulla sua indefettibile verginità maria era vergine casta possedeva interiormente nell'animo tutte le qualità e tendeva al meglio in due modi li piaceva operare rettamente quando adempiva ai suoi doveri ed ancora conservava integro il senso della fede e della castità non voleva essere vista dagli uomini ma pregava dio perché lui stesso si ergesse a suo giudice restava assiduamente in casa preferendo essere in disparte allo stesso modo che la mosca ama restare attaccata al miele sant'atanasio sulla verginità corpus scrittorum cristianorum orientalium 151 58